Anche se potevo congredire il tutto a due anni, in realtà le faccio venti, perché faccio vent'anni, mi rompimento di scatole con tab, e quindi ho mai passato la maggiore età, ahimè. Tre quarti della mia vita. Che barba, mi viene da dire. Non guardavo il tempo che c'era barba, eh. Vabbè, adesso partiamo. Un po' di dati. Intanto voglio iniziare con un minimo di speranza. I contemporanei, a quella regione di stasera, a Ponte Decimo, c'è una regione popolare. Informativa, nei confronti delle devastazioni che la TAV produrrà, perché, come giustamente si è detto, non è soltanto una questione locale, ma del resto, francamente, che la facciano a Ponte Decimo, che la facciano da Ulam Bator a Kiev, poco importa il problema e il modello di sviluppo in sé. È per questo che il mio sarà un ragionamento, non tanto sulle questioni tecniche che sono messe di portare, ma un ragionamento di natura politica. Per prima cosa io penso un fatto. Operativamente io penso che noi, comunque, non dovremmo, usando un verbo pesante, sprecare il nostro tempo cercando interlocuzioni con queste classi dirigenti e con questi gruppi economici. Noi, semplicemente, dobbiamo delegittimare totalmente la loro visione del mondo. Per anni, anche i barconceveri abbiamo cercato di dialogare con le istituzioni, ma, ahimè, le istituzioni erano sorde, ma non perché non ci sentivano, semplicemente per un fatto. E quelle istituzioni sono i portavoggi istituzionali di gruppi economici i quali si identificano in un'unità di società che è radicalmente alternativa a quella di cui noi siamo portatori. Detto questo, quindi io credo che noi ci dovremmo trovare, ricordate, una sfida ben più ampia. Termo restando tutto quello che si è detto che concorre totalmente. Voglio solo riflettere su un fatto. Noi siamo in una fase storica in cui l'egemonia economica del capitalismo è a livello più basso. La crisi economica ci sta dimostrando che il capitalismo non ha soltanto una contraddizione rispetto al lavoro, ma ha una contraddizione rispetto a una cosa che si chiama seconda legge della termodinamica da cui non sfuggono neanche loro signori. Ma parolossalmente abbiamo una discrepanza gigantesca, perché di fronte al massimo di crisi nel sistema capitalistico abbiamo anche il massimo, ahimè, di consenso al sistema medesimo. Consenso che non è fatto di partecipazione e consapevolezza, ma è fatto di dominio passivo, è fatto di indottrinamento, è fatto di silenzio. Qualcuno ha detto giustamente che qui, purtroppo, c'è tanta gente, ma in realtà ce n'è poca, perché dovremmo avere i paesi pieti, dovremmo avere una obbiditazione territoriale altissima, proprio per dimostrare che c'è la coscienza. Quindi ho pensato che la nostra sfida oggi sia fondamentalmente una sfida per creare una nuova egemonia culturale intorno alle nostre istanze, non perché noi siamo il Vangelo, ma semplicemente perché, a differenza degli altri, noi siamo i saperi critici, cioè noi invagliamo i nostri lezioni in base dei dati, al contrario di quello che fanno loro, che invece fanno degli atti di fede. Rispetto, vi racconto una nella che ridico, ho avuto un po' ridere, la settimana scorsa un dibattito a una scuola, un docente universitario del Politecnico di Torino, pure non presente, ha mandato un contributo scritto dicendo ma in effetti sui dati tecnici avete ragione voi, vedrete che domani avremo ragione noi. E a me ricordo, io purtroppo non era presente quella persona, ma ho controbattuto dicendo che evidentemente gli economisti sono diventati teologi, visto che stanno facendo atti di fede rispetto agli assioni di fronte ai quali non c'è una dimostrazione pratica. Detto questo chiudo con una suggestione. Io credo che oggi il movimento, cosiddetto notabile, vieni a ridere perché nel 2001, non ho avuto adesso notato, sempre era qualcosa, era passiamo dei movimenti costituenti. Io credo che il movimento, virgolette, notabile, abbia un potere costituente per un fatto che per la prima volta dopo anni sta creando quello che Antonio Gramsci chiamava un intellettuale collettivo, cioè gruppi di persone che consapevolmente agiscono per la trasformazione sociale. E aggiungo un fatto, chiudo per apprasando al Bergham, Camus diceva che c'è la bellezza e ci sono gli oppressi, lui va a essere fedele ad entrambi. Ebbene, io credo che la nostra battaglia a difesa della bellezza, a difesa del territorio, essendo anche una battaglia a difesa degli oppressi che subiscono le contraddizioni del capitalismo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista territoriale, sia una battaglia che congiungendo entrambi gli assi ci dia la risultata di quella che deve essere la società di domani. Grazie. 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 Grazie.